Sono convinto che nessuno tra di voi anche nello stadio fosse convinto che noi avessimo la possibilità di superare questo turno, noi sì, lo abbiamo dimostrato in campo, sapevamo di poter fare qualcosa di speciale, particolarmente doloroso uscire con un gol subito negli ultimi minuti, adesso c'è grande delusione, purtroppo il nostro viaggio è finito ma assolutamente nulla da rimproverare la mia squadra. Sono orgoglioso non di una singola partita ma di tutto il percorso, oggi dobbiamo ammettere che purtroppo nell'arco delle due partite non siamo riusciti a superare il turno, avremmo meritato di più ma il calcio è così, sono i gol a fare la differenza, abbiamo anche concesso poche occasioni alla Roma oggi.